dato che vi ho fatto vedere parecchia una gracia e volevo farvene vedere un'altra la cercea luteziana che comunemente viene chiamata erba maga è una pianta erbacea che si sviluppa in altezza perché arriva tranquillamente ai 60 centimetri nella parte inferiore del fusto vediamo le foglie foglie che si dispongono in maniera opposta sono picciolate hanno l'apice acuto e la base che è tronca e poi abbiamo questi fiori che si dispongono su lunghi racemi terminali dico che sono lunghi perché sono lunghi almeno 20 centimetri la corolla è formata da due petali che sono profondamente bifidi e poi si possono vedere anche i due stami la caratteristica della cercea luteziana rispetto alle altre a molte altre una grace è che il frutto è questa è dotato di uncini e quindi per disperdersi per disseminarsi sfrutta la disseminazione zocora che non è altro che la disseminazione utilizzando come veicolo di dispersione il pelo degli animali quindi questi frutti riusciranno ad attaccarsi al pelo degli animali verranno dispersi mentre ad esempio tantissime altre una grace pensiamo all'epilobium sfruttano la disseminazione utilizzando il vento infatti hanno dei frutti che sono dotati proprio di di un abito piumoso che permette poi di disperdersi volando col vento e questa è la cercea luteziana fiore e le foglie